ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo la foto che state osservando mostra due ragazzini mentre dormono nel loro letto a castello nella foto spunta fuori anche una strana figura che appare vicino a uno dei due ragazzini l'essere sembra rimanere l'immobile a fissare il piccolo come se begliasse su di lui anche se il suo aspetto non sembra essere molto rassicurante nella casa di quest'uomo si aggira uno spirito maligno che si manifesta all'uomo terrorizzandolo a morte questo avviene proprio mentre l'uomo fa una panoramica della propria casa il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato grazie a tutti un tiktoker colombiano di nome diego spiker ha ripreso questo filmato mentre era in un bagno pubblico ad un tratto da una finestra appare una creatura spaventosa che incomincia ad urlare spaventando il povero tiktoker il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato degli esploratori urbani entrano in un tunnel durante la loro perlustrazione notano qualcosa a muoversi al suo interno gli esploratori continuano la loro perlustrazione finché ad un certo punto un urlo agghiacciante di terrorizza a morte a quel punto decidono di abbandonare quel luogo il più in fretta possibile il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato il video è che come giù è va rascando molta basura anche anche io qui avanzando io vi un po' più un po' più un po' più al dentro No, 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 qu'è es eso? che es questo il video seguente viene dall'alaska e mostra un alce che attraversa un lago molto profondo come se camminasse sulla strada il filmato viene ripreso da alcuni pescatori lì vicino che rimangono lì a guardare l'alce completamente a bocca aperta il video è davvero incredibile questo è ciò che è stato filmato questo filmato mostra qualcosa di veramente strano e spaventoso all'inizio viene ripresa questa piccola durante la registrazione vengono riprese anche due strane gambe che sbucano all'improvviso correndo senza un corpo il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato su una strada in india compare una strana creatura simile ad un alieno alcuni passanti si fermano lì a guardarla riprendendola con il loro smartphone ad un certo punto sembra che la strana creatura e metta uno strano grugnito il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il filmato in una strana che ci spessi e anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao 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 ciao